Ho sbagliato un numero allora, grazie. Vediamo tanto spargimento di sangue, sappiamo che ancora tra 100 o 130 persone sono ancora ostaggi di Hamas e non sappiamo come stanno, non abbiamo loro notizie. Quindi davvero dobbiamo ricordarci di queste persone che stanno soffrendo sicuramente. Ricordiamoci anche degli sfollati perché in tv ascoltiamo degli sfollati della Palestina ma non parlano invece degli sfollati che ci sono sia al sud che al nord di Israele. E quindi se vi ricordate anche Ornat, la guida ci aveva parlato di questo. Ricordiamoci che queste cose al telegiornale non le dicono ma tante volte neanche se andiamo a cercare su internet non troviamo proprio tutte le notizie. Come non parlano dei missili che continuano ad arrivare da Hamas e vanno in Israele ma non ne parlano. È vero che Israele è protetta con l'Airdom però è anche vero che i detriti cascano quindi ci saranno sicuramente incendi, ci saranno sicuramente tante tante difficoltà a gestire questa cosa. Le persone che corrono a ripararsi come ci raccontava Stefano. Ricordiamoci un po' tutte queste cose perché sembra così lontano il giorno che è successo, il 7 ottobre, quello che è successo però ci sono tante altre cose che stanno accadendo ogni giorno. È vero muoiono tanti palestinesi ma è vero che la sofferenza è da entrambi i popoli. Ricordiamoci sempre di questo. E non ultima io vorrei ricordarci anche un versetto che forse porta anche a quello che ci dirà Sara. Noi abbiamo un'arma più forte di Hamas, più forte di quello che ha Israele e della preghiera. Per cui davvero ricordiamoci sempre in tutte le nostre preghiere di quello che sta accadendo e ricordiamoci quello che ci diceva anche il fratello Michi Yaron che noi siamo le sentinelle che devono ricordare a Dio le sue promesse e che avvengono al più presto. Dopo tutto questo io voglio dare la parola a Sara che questa sera ci parlerà di un digiuno molto particolare e lascio a te la parola. Vi chiedo di silenziare i vostri microfoni cortesemente. Grazie. Grazie. Poi quando vi dirò io di riaccenderli se qualcuno vuole fare qualche domanda siamo qui a vostra disposizione. Grazie. Prego Sara. Salome a tutti è bello vedervi anche cioè vedervi chi vedo di voi gli altri anche se non vi vedo leggo i vostri nomi. Questa sera come ha anticipato Antonietta non parlerò nello specifico di quello che sta accadendo in Israele. So che questa rubrica è già ben focalizzata su questo. Abbiamo sentito tante cose ho fatto anche un intervento qualche mese fa quindi non parleremo di questo questa sera. Parleremo nello specifico di qualcosa che comunque può essere compreso e allo stesso tempo può aiutarci a comprendere in che momento Israele stia vivendo adesso. Anche perché ci stiamo effettivamente avvicinando a quel momento del calendario ebraico parleremo di Purim e del digiuno di Esther. Questa sera faremo un po' di giretti biblici non credo di annoiarvi mi sono cronometrata e non dovrei superare i 38 minuti. Però cerco comunque di essere di essere rapida perché si tratta di cose importanti che credo tutti noi dovremmo come credenti avere bene in mente molto chiari nella nostra proprio nel nostro modo di concepire anche quello che sta accadendo. Alcuni di voi avranno sentito qualcosa tra le cose che dirò oggi ma è sempre buono ricordare, è sempre buono rammentare certi concetti perché ci aiutano poi a farli davvero nostri. Allora io dovrei condividere il mio schermo quindi vi chiedo un secondo aspettate eh arrivo subito dovrei riuscire a fare così ok allora qua condivido mi confermate di riuscire a vedere quello che c'è? Sì ok aspettate che vado ecco adesso dovreste vederla in modalità di presentazione ok perfetto grazie allora quindi parleremo di Purim e di digiuno di Esther ne parleremo anche va bene la parte finale in termini culturali come viene festeggiato oggi eccetera ma a me interessa capire come sei arrivati lì quindi capire insieme a voi e fare questo viaggio per avere proprio chiari passi ok sono sicura che tutti o quasi conosceremo benissimo questa storia forse ci saranno cose nuove che impareremo oppure come dicevo prima semplicemente andremo a rinfrescare ehm a rinfrescare alcuni concetti che già conosciamo innanzitutto noi sappiamo che di Purim si parla ovviamente nella Megillahester cioè nel rotolo di Esther il libro di Esther questo libro ha delle particolarità in se stesso che lo rendono davvero speciale in particolare ce ne sono due porta il nome di una donna assieme ad un unico altro libro che è il libro di Ruth e non cita mai direttamente il nome di Dio perlomeno non lo fa nella versione ebraica perché del libro di Esther esiste anche una versione greca che differisce un pochettino da quella ebraica e questa peculiarità la ritroviamo anche nel Cantico dei Cantici perlomeno ripeto nella versione ebraica poi come i libri di Daniele e di Ezechiele eh questo libro è stato composto durante l'esilio eh giudaico del popolo giudaico ed è ambientato al di fuori di Erez Israele quindi al di fuori della terra di Israele dunque questa festa nella tradizione rabbinica è conosciuta con l'appellativo di festa minore assieme a Hanukkah perché si parla di festa minore si parla di festa minore perché furono i rabbini e non la Torah a ordinarne la celebrazione ok poi come vedremo eh i rabbini comunque si sono appellati a quello che hanno trovato nel libro di Esther ma ciò che sappiamo senz'altro è che pur essendo una una festività biblica perché la ritroviamo nelle scritture non è stata ordinata da Dio nella Torah anche perché eh gli avvenimenti di cui si parla eh sono successivi alla chiusura della della Torah stessa e secondo questo rabbino che è un noto rabbino eh che è morto circa un vent'anni fa eh Rabshim Shon David Pincus una particolarità anzi la particolarità di questa festa è la gioia e questo ci ricorda e dopo torneremo eh su questo punto un'altra festa che è un'altra festa che è un'altra festa che è un'altra festa che è un'altra festa di Succot che come sappiamo è proprio la festa alla fine della quale si è scatenato l'inferno eh il 7 di ottobre nel giorno della gioia della Torah Simchat Torah ma questo rabbino che cosa dice? Che questa gioia deve essere una gioia totalmente differente rispetto a quella che celebrano altre feste ora da dove nascono il digiuno di Purim e la festa che ne consegue? Il contesto lo sappiamo è quello dell'epoca di re Achashverosh quindi re Assuero imperatore di Perse di Media che storicamente può essere eh diciamo identificato in almeno tre figure quindi non sappiamo quale di queste tre effettivamente fosse Serse primo, Arta Serse primo o Arta Serse secondo e ci troviamo nel libro di Esther nella principalmente nella città di Shushan quindi la città di Susa e nel quinto secolo ok siamo nel quinto secolo avanti Cristo ora riassumiamo perché ovviamente io eh auspico che tutti noi presenti abbiamo letto almeno una volta il libro di Esther ma per chi non l'avesse fatto raccomando di leggerlo per intero perché è un libro meraviglioso e che spero anche magari quello che diremo oggi suzzicherà un pochino l'appetito da questo punto di vista e ci porti a rileggere questo libro che è sensazionale Esther è il nome babilonese di Adassa eh il termine Adassa significa Mirto in ebraico mentre il nome Esther etimologicamente è legato alla divinità babilonese Ishtar Mardokeo ebraico Mordecai fa da padre a questa ragazza che era rimasta orfana di entrambi i genitori era un cugino e eh sappiamo che a un certo punto senza dilungarci troppo eh Esther diventò regina quindi venne scelta dal re per diventare la sua nuova moglie dopo che aveva cacciato quella precedente a causa di una disubbidienza da parte di quella donna ora tutto bene finché a un certo punto la vicenda si evolve in negativo perché perché arriva entra in gioco nella storia un personaggio che sarà l'antagonista noi sappiamo che in tutte le storie che si rispettino esiste un protagonista ed un antagonista ebbene il nostro buon antagonista buon cattivo antagonista è un certo Aman che da funzionario qualunque diventa primo ministro dell'impero quindi la seconda persona più importante ok dopo il re questo personaggio ebbe un ruolo particolarissimo che era dettato dalla sua identità ok perché in questo caso la sua identità viene rappresentata dalle origini di questo personaggio origini che lui sposò pienamente e capiamo adesso a breve il perché dico questo cioè che lui sposò pienamente quelle origini che rappresentavano la sua identità nel libro di Esther Aman viene rappresentato come figlio di Ammedatà la Gagita quindi era un discendente di Agag ora chi era questo Agag? Questo Agag era ce lo rivela prima a Samuele 15 il re degli Amalekiti popolo come sappiamo nemico di Israele da sempre perché possiamo dire che Amalek è uno dei principali e oserei dire il più il peggiore nemico di Israele nella storia dell'antico Israele perché il popolo di Amalek che lo ricordiamo discende da Esau ora chi conosce un po' la tradizione rabbinica ma in generale anche la scrittura perché questo aspetto emerge dalla scrittura il popolo che discende da Esau ed Om è nemico di Israele il che rende il tutto ancora più scolvolgente perché Esau è il fratello di Israele il fratello gemello di Israele no? Ricordate che Israele è il nome che Dio ha dato a Iacob quindi a Giacobbe gemello di Esau e a un certo punto le loro strade si dividono quindi sebbene loro come due personaggi sappiamo che si riconciliano nella scrittura ci viene detto molto chiaramente le loro discendenze no perché Edom si opporrà sempre ad Israele Amalek era il nipote di Esau il nipote cioè Esau era suo nonno fondamentalmente ebbene questo Amalek che cosa fa? nel momento in cui Israele è uscito dall'Egitto si trova nel deserto di sua spontanea volontà va incontro al popolo di Israele per muovergli guerra quindi coglie alla sprovvista infatti dopo lo vedremo questo popolo per attaccarlo poi la scrittura in Esodo 17 ci dice che Giosuè in quel famosissimo passaggio nel quale vediamo Mosè che viene aiutato da Arone e Cur che gli tengono le mani e utilizziamo spesso questo passaggio per descrivere il potere dell'intercessione la forza del sostegno dei fratelli in preghiera per a favore di altri fratelli di situazioni di questioni ebbene Giosuè grazie all'intercessione di Mosè riesce a sconfiggere sul campo Amalek Amann perché è così importante? perché Amann è colui che avrebbe organizzato per la primissima volta nella storia di Israele un piano di distruzione di massa cioè totale nei confronti del popolo ebraico ecco perché prima ho detto che Amann accoglie a piene mani possiamo dire abbraccia pienamente quelle rigidità di inimicizia di antagonismo del suo antenato Amalek quindi ha sposato gli intenti e i propositi di annientamento portati avanti da Amalek secoli e dietro quindi molto prima ok? di Amann noi possiamo dire che questo episodio sia l'unico vero precedente della Shoah anche se ovviamente ci sono dinamiche diverse numeri diversi caratteristiche diverse ma non c'è mai stato al di fuori di questo episodio un altro un'altra occasione nella quale il popolo di Israele si è cercato di distruggere il popolo di Israele per intero prima della Shoah ma altro elemento molto importante che noi conosciamo è che Amann si oppose in maniera molto aggressiva a Mardokeo che abbiamo detto essere stato il cugino e tutore di Esther prima che lei diventasse regina però non c'è solo questo aspetto lo stesso Mardokeo si pone in inimicizia nei confronti di Amann perché? perché non onorava pubblicamente come avrebbe dovuto quindi andava anche contro banalmente l'ordine del re no? l'ordine del re era di onorare questo personaggio Mardokeo ci dice la scrittura poi lo leggeremo non si inchinava né si prostrava di fronte a questo Amann ora noi capiremo poi la reale motivazione sia dell'odio di Amann nei confronti di Mardokeo che della inimicizia del disprezzo del disonore quello che volete che Mardokeo metteva in atto nei confronti di Amann ok? ora c'è un elemento importantissimo da considerare per capire bene la storia di Esther e quello che poi condurrà al Purim ok? alla celebrazione del Purim noi abbiamo detto che Giusuè combatterà Amalek sul campo di battaglia che lo vincerà lo abbiamo visto in Esodo però Dio in quel frangente aveva dichiarato una cosa molto forte molto grave ok? e la leggiamo assieme sento dei rumori non so se ci sia qualcuno con l'audio attivo per favore potete silenziare i microfoni altrimenti non riesco a silenzire ok? leggiamo insieme questo passaggio il signore disse a Mosè scrivi quindi attenzione questo è il signore che sta parlando ok? scrivi questo fatto in un libro quindi la vittoria contro Amalek eccetera perché se ne conservi il ricordo e fai sapere a Giusuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek quindi qui è il signore che sta dicendo io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek a questo punto Mosè costruì un altare che chiamò il signore la mia bandiera e disse una mano si è alzata contro il trono del signore perciò il signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione ricordiamoci bene questa espressione una mano si è alzata contro il trono del signore perché sta tutta qui la vicenda il fulcro il succo della vicenda quindi Amalek mosse guerra di Israele sul piano naturale ok ma la Bibbia ci fa chiaramente capire che la guerra che Amalek aveva mosso contro Israele in realtà era stata mossa contro il dio di Israele perché una mano si è alzata contro il trono del signore Mosè qui avrebbe potuto dire benissimo una mano si è alzata contro Israele e il signore ha detto che avrebbe fatto guerra ad Amalek invece usa questa espressione che ci fa capire molto chiaramente quale fosse l'intento di Amalek che tipo di opposizione che tipo di spirito muovesse quel popolo in Deuteronomio 25 troviamo una cosa ancora più grave che il signore ci dice Deuteronomio sappiamo che la ripetizione è un monologo che Mosè fa al popolo che si trova tra l'altro non è più il popolo che è uscito dall'Egitto sono i loro discendenti si trovano sulle campagne di Moab all'ingresso della terra di Canaan non sono ancora entrati ebbene Mosè dice ricordati questa è parola di Dio attraverso Mosè ovviamente ricordati di quello che ti fece Amalek durante il viaggio quando uscisti dall'Egitto egli ti attaccò per via piombando da dietro su tutti i deboli cerchiamo anche di fare attenzione a quello che dice e proviamo ad immaginare se ci sia qualcosa nella nostra contemporaneità che ci ricordi quello che la Bibbia sta dicendo attaccò da dietro tutti i deboli che camminavano per ultimi quando eri già stanco e sfinito e non ebbe alcun timore di Dio quando dunque il Signore il tuo Dio ti avrà dato pace liberandoti da tutti i tuoi nemici che ti circondano nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà come realità perché tu lo possegga cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo non te ne scordare quindi il Signore ancora una volta ricorda questa cosa a Israele quindi quello che noi comprendiamo è che noi siamo di fronte ad una continua guerra con lo spirito di Amalek che noi ritroviamo spessissimo nella scrittura ma anche nella storia di Israele cioè uno spirito che si oppone a Dio e ai suoi piani colpendo Israele ma se andiamo in 1 Samuel 15 2 la parola ci dice che cosa che Dio si ricordava benissimo di quello che Amalek fece a Israele quando gli si oppose nel viaggio saliva dall'Egitto perciò per questa ragione il Signore aveva ordinato a Saula di occuparsene e sappiamo bene cosa vuol dire il Signore aveva ordinato di distruggere Amalek Saula disubbidisce perché la parola ci dice che aveva ubbidito soltanto parzialmente e di fronte cioè l'ubbidienza parziale agli occhi di Dio è disubbidienza totale quindi questo è anche un monito per noi addirittura in questo passaggio Samuele sta dicendo a Saula guarda che la disubbidienza è peggio dell'idolatria è peggio del peccato di stregonieria stai attento quindi questa cosa qui quello che abbiamo detto fino ad ora è la premessa da tenere presente quando si considera la vicenda di Amane di Mardokeo nel libro di Esther anzi proprio questo episodio di prima Samuele 15 perché Mardokeo era un bene amminita cioè uno della stessa tribù di Saul Saul in quanto re rappresentava lo sappiamo le figure regali rappresentano nella scrittura il corpo ok cioè il re e il popolo sono una stessa cosa quindi il re Saul in quel momento rappresentava l'intero popolo di Dio allo stesso modo abbiamo Amane che era un discendente del re degli Amalekiti ok e che in questa vicenda rappresenta quel medesimo spirito lo spirito del suo progenitore quindi noi abbiamo una guerra spirituale tra Mardokeo e Amane quindi al di là dei loro screzzi che poi adesso lo vedremo il problema era dietro le quinte o diremmo noi nel mondo spirituale quindi invisibile agli occhi ok abbiamo un discendente della stessa tribù di Saul che si trova in opposizione a un discendente di Amalek Saul aveva disubbidito in quel momento quindi aveva preso una posizione spirituale avversa e noi sappiamo che cosa vuol dire prendere una posizione spirituale avversa all'ordine di Dio apre tutta una serie di brecce questa è una breccia quindi questo è il risultato di quella disubbidienza perché se Saul avesse fatto quello che Dio aveva ordinato non avremmo avuto un Aman desideroso di uccidere tutti gli ebrei quindi questo è fondamentale la lotta tra Mardokeo e Amane è di natura spirituale e quindi comprendiamo anche che questa è la principale ragione ovviamente non l'unica perché sicuramente c'era anche un po' di orgoglio personale ma questa è la principale ragione per cui nel libro di Esther si dice che Mardokeo non si inchinava né si prostrava alcuni pensano che ciò sia legato al fatto che Mardokeo era un giudeo e quindi tecnicamente non si doveva prostrare di fronte a nessun altro che non fosse Dio non è vero perché nel libro c'è scritto serenamente che Mardokeo si prostrava davanti al re e la stessa cosa faceva Esther quindi la posizione di Mardokeo qui è molto chiara gli sta dicendo nello spirito io non mi inchinerò mai davanti a te Amalek e ovviamente questo non fece altro che tirar fuori tutta la bile allo spirito di Amane ok infatti si dice che Amane vide che Mardokeo non si inchinava ne si prostrava davanti a lui per cui ne fu irritatissimo ma gli sembrò poca cosa mettere le mani addosso a Mardokeo soltanto questa è la cosa importante perché gli avevano detto a quale popolo Mardokeo apparteneva cercò quindi di distruggere il popolo di Mardokeo cioè tutti i giudei che si trovavano in tutto il regno di Assuer capiamo che c'è qualcosa di più consistente rispetto ad una una diatriba legata all'orgoglio perché questo non si prostra davanti a me come si permette qui leggiamo che cosa ci dice la scrittura Amane disse al re Assuero c'è un popolo separato disperso tra i popoli di tutte le province del tuo regno le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo e che non osserva le leggi del re non è quindi interesse del re tollerarlo se il re è d'accordo si faccia un decreto per distruggerlo e io metterò diecimila talenti d'argento nelle mani dei funzionari del re perché siano portati nel tesoro reale allora il re si tolse di mano l'anello con il sigillo lo diede da Amane la Gaguita figlio di Amiratà nemico dei giudei ora è molto interessante che per mettere in atto questo piano Amane si sia usato dell'elemento dello strumento legislativo facendo leva su che cosa? sulla diversità degli ebrei ma questo ci dovrebbe ricordare qualcos'altro nella Germania nazista si rese legale la discriminazione la persecuzione e la distruzione del popolo ebraico si crearono delle leggi ad hoc apposite che si appellavano alla diversità in quel caso genetica degli ebrei quindi fondamentalmente che cosa ritroviamo? I medesimi schemi i medesimi strumenti seppur con caratteristiche diverse lo strumento legislativo è solo un esempio ok? e quindi Amane mise in atto questo piano per cancellare i giudei dell'impero ed è questo ciò che condurrà il popolo giudaico a partire da estere in prima persona a indire un digiuno un digiuno alla ricerca della faccia di Dio anche se questo non è esplicitato perché abbiamo detto che nel libro di Esther non si menziona mai Dio ma dato che Esther è una giudea esattamente come Mardokeo capiamo bene che cosa significhi indire un digiuno in questo contesto in un paese nemico in mezzo ad un popolo straniero e l'idolatra è chiaro che qui il Signore ci sta dicendo sì io non vengo menzionato ma il mio popolo ha cercato il mio volto in questo caso quindi è grazie in questo frangente che viene quindi indetto questo digiuno e si arriva alla vittoria la vittoria perché? perché il Dio di Israele è fedele e risponde alle preghiere di chi si rivolge a lui quindi la festa di Purim va a celebrare questa vittoria che però è anticipata da che cosa? da giorni di lamento giorni di cordoglio giorni di digiuno infatti Esther che cosa dirà nel capitolo scusate no qui è quello che ci spiega e anche qui vi chiederei di fare attenzione alle parole quello che ci spiega la parola la Bibbia su come Aman ha gestito il tutto il tredicesimo giorno del primo mese furono chiamati i segretari del re che scrissero seguendo in tutto gli ordini di Aman ai satrapi del re ai governatori eccetera eccetera questo mi interessa furono mandate delle lettere per mezzo di corrieri in tutte le province del re perché si distruggessero si uccidessero si sterminassero tutti i giudei giovani e vecchi bambini e donne in un medesimo giorno no il tredici del dodicesimo mese cioè il mese di Adar e si abbandonassero al saccheggio i loro beni quindi questo Amalekita dimostra di essere un degno anzi il degno direi perché non ce ne sono stati altri simili a lui discendente di Amalek che la Bibbia lo abbiamo ricordato prima presenta come il nemico la cui mano si è alzata contro il trono del Signore ed ecco quindi che noi comprendiamo il perché la motivazione che si cela dietro all'ardore dell'ordine di Dio di distruzione di Amalek si tratta di un'entità spirituale un'entità spirituale che manifesta di generazione in generazione in ebraico si dice le dor bado di generazione in generazione la sua opposizione ad Israele perché perché si oppone al Dio di Israele ok questo è il motivo per cui Dio ha detto io cancellerò la memoria di Amalek e farò guerra ad Amalek di generazione in generazione quindi da millenni noi vediamo questo stesso spirito che influenza individui influenza popoli influenza nazioni per cercare di eliminare gli ebrei e israeli dalla faccia della terra Aman Antioco IV imperatore greco non ha avuto sicuramente lo stesso peso rispetto ad Aman ma ha cercato di eliminare l'identità ebraica in quel contesto siamo nell'epoca ellenistica Hitler ma oggi abbiamo altrettanti valorosi come possiamo dire discendenti Hamas l'Iran e ce ne sono altri quindi l'antisemitismo che è una cosa così irrazionale violenta e non ha alcun timore di Dio quello che Deuteronomio ci diceva riguardo ad Amalek ha a che fare con questa radice lo spirito di Amalek non c'è altra spiegazione non c'è niente di più irrazionale dell'antisemitismo che è l'unica forma di odio che ha avuto presenza spazio in ogni generazione in ogni nazione in ogni epoca quindi capiamo che la portata è spirituale perché altrimenti se fosse stato naturale sarebbe scemato in un attimo tornando al libro di Esther quindi per velocizzare abbiamo detto che Dio non viene mai esplicitamente nominato però noi troviamo traccia di Lui lo abbiamo detto soprattutto nel passaggio dedicato al digiuno non solo in questo ma soprattutto nel passaggio dedicato al digiuno si tratta di un momento così tanto rilevante che ancora oggi si svolge proprio nei tre giorni precedenti alla festa di Purim e dopo vi segnalo le date in cui quest'anno si svolge sia il digiuno di Purim che di Esther che la festa di Purim perché questi giorni di digiuno vanno a ricordare a commemorare quei tragici giorni di dolore e di sconcerto di sconforto di stupore che ha portato questi giudei a doversi necessariamente fidare del loro dio perché era l'unica soluzione lo ripeto anche se il libro non lo dice chiaramente infatti Esther ordinò che se rispondesse a Mardokeo raduna tutti i giudei digiunate per me state senza mangiare senza bere per tre giorni notte e giorno anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re sebbene ciò sia contro la legge e se io debba perire che perisca quindi grazie alla provvidenza di Dio poi noi sappiamo che Aman non riuscì nel suo intento cadde nella sua stessa trappola e alla fine sarà proprio Mardokeo quel Mardokeo tanto odiato a prendere il suo posto perché Mardokeo diventerà la seconda persona più importante o la terza diciamo dopo il re Esther sarà stimato da tutto il popolo questi sono proprio gli ultimi versi del libro di Esther sarà grandemente amato per suggellare quindi questa vittoria Esther e Mardokeo che cosa fanno? lo leggiamo insieme adesso stabiliscono per legge che si sarebbe dovuto festeggiare ora il termine Purim viene dall'ebraico Pur Pur significa sorte Purim è il plurale ok quindi sarebbe le sorti quindi questo termine che cosa ci ricorda? ci ricorda come il nemico Aman aveva tirato a sorte per decretare la distruzione e la sorte tra virgolette aveva deciso per il 13 di Adar allo stesso tempo però ci ricordiamo anche che la sorte dei giudei fu ribaltata in loro favore proprio come quei dadi che si ribaltano dadi per modo di dire erano pietre all'epoca insomma leggiamo questi versetti questo avvenne il tredicesimo giorno quindi la difesa i giudei che si difendono da questi attacchi dei nemici il tredici di Adar il quattordicesimo giorno si riposarono e ne fecero un giorno di banchetti e di gioia vi ricordate cosa abbiamo detto sulla gioia prima? ma i giudei che erano a Susa si radunarono il tredicesimo e il quattordicesimo giorno di Adar il quindicesimo giorno si riposarono e ne fecero aspettate che alzo qua e ne fecero un giorno di banchetti e di gioia perciò i giudei della campagna che abitano in città non morate fanno del quattordicesimo giorno del mese di Adar un giorno di gioia di banchetti e di festa nel quale gli uni mandano regali agli altri eccetera Mardokeo scrisse queste cose e mandò delle lettere a tutti i giudei ordinando loro sto facendo un po' di salti come vedete per ridurre un po' il tempo ordinando loro di celebrare ogni anno i giorni quattordici e quindici del mese di Adar come i giorni nei quali i giudei ebbero riposo dagli attacchi dei loro nemici e il mese in cui il loro dolore venne mutato in gioia il loro lutto in festa e di fare di quei giorni giorni di banchetti di gioia nei quali gli uni mandassero regali agli altri e si facessero due bisognosi i giudei si impegnarono a continuare quello che avevano già cominciato a fare e che Mardokeo aveva loro scritto poiché Amman figlio di Amman il nemico di tutti i giudei aveva tramato contro i giudei per distruggerli e aveva aggettato il pur vale a dire la sorte per sgominarli e farli perire ma quando Esther si fu presentata davanti al re questo ordinò per iscritto che la scellerata macchinazione che Amman aveva ordita contro i giudei fosse fatta ricadere sul capo di lui e che egli e i suoi figli fossero appesi alla forza perciò quei giorni furono detti Purim dal termine Pur una curiosità ci stiamo avviando alla conclusione una curiosità sulla festa e in particolare sulla giornata di Shushan Purim cioè il Purim di Susa allora noi abbiamo detto che Purim celebra la vittoria dei giudei sui loro nemici questa vittoria si realizzò il tredicesimo giorno del mese di Adar ok in tutti i territori dell'impero però i giudei che abitavano a Shushan quindi i giudei di Susa dovettero lottare un giorno in più ce l'abbiamo letto no mentre i loro fratelli già il quattordicesimo giorno si riposavano festeggiavano celebravano ok per questa ragione quindi i giudei di Shushan andarono a riposarsi e a celebrare il giorno successivo quindi il quindici di Adar ok per portare avanti la memoria di questo avvenimento i saggi di Israele i rabbini che cosa decisero stabilirono che in futuro Purim sarebbe stato celebrato il quindicesimo giorno del mese di Adar da tutti i giudei di Shushan di Susa e tutti i giudei che abitavano in città che al tempo di diciamo così di 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 Assuero erano circondate da Mura con grande giubilo con la lettura della Megillah di Esther come si fa anche adesso allora diciamo che appunto inizialmente i rabbini decisero di dover considerare diciamo così quelle città che all'epoca di Assuero erano circondate da Mura perché perché la vittoria effettivamente occorse in quel tempo però poi pensarono ma noi non possiamo onorare una città persiana più di quanto onoriamo la terra di Israele che all'epoca di Assuero si trovava in rovina come sappiamo quindi per questa ragione decisero che i giudei che in futuro avrebbero abitato in città circondate da Mura in città che all'epoca di Giosuè erano circondate da Mura avrebbero celebrato il Purim speciale quindi Shushan Purim il 15 ora al tempo di Giosuè più o meno l'unica o forse ci sono altre piccole eccezioni città circondata da Mura era Jerusalem era Gerusalemme e infatti fino ai giorni ostri principalmente nella città vecchia di Gerusalemme ma anche in altre vecchie città di Israele il Purim si celebra il 15 di Adar non il 14 mentre nel resto del mondo i giudei in diaspora celebrano il 14 di Adar con il passare dei secoli la festa di Purim ma sappiamo che si è trasformata in una grande festa e maschera in carnevale e anche scesa diciamo così a dei livelli mi ricordo proprio il carnevale la carne perché perché al di là del mascherarsi è una cosa bella per i bambini insomma si divertono diciamo che spesso capita che qualcuno arricci il naso soprattutto in ambito ortodosso e oltre ortodosso perché capita che questi travestimenti scadano nell'irriverenza a volte oltretutto questa è una festa nella quale si beve tantissimo al limite dell'ubriachezza quindi capite che è una festa che è diventata insomma ha perso un pochettino quella radice spirituale religiosa anche se lo dobbiamo dire tutte le volte che si celebra il Purim poiché nelle sinagoghe si legge il rotolo di Esther si ricorda bene qual è il motivo per cui si celebra ok quindi nonostante potremmo assimilarla ad altre feste che noi conosciamo meglio non ebraiche in realtà non si dimentica del tutto qual è il motivo per cui si celebra ok perché si legge costantemente ogni anno il libro di Esther che cosa succede ad oggi ci sono questi dolcetti molto famosi a forma di triangolo che vengono vengono farciti insomma in maniera diversa si chiamano amantash amantashim in questo caso orecchie di aman poi ci sono varie tradizioni su che cosa veramente quel triangolo volesse rappresentare se davvero le orecchie di aman oppure se qualcos'altro il cappello le tasche vabbè ci sono varie varie storie e questo è l'amantash che sono appunto questi dolcetti che troverete se andate in Israele durante il Purim in ogni bancarella fondamentalmente quindi per concludere perché poi penso di aver preso già abbastanza tempo in un momento come questo nel quale noi viviamo in cui Israele sta combattendo una guerra che non ha voluto ricordatevi che Amalek è andato dietro ad Israele per combatterlo ai tempi dell'Esodo non è stato Israele a cercare Amalek quindi contro un nemico che il 7 di ottobre ha dimostrato lo abbiamo visto in tutti questi cicli di lezioni di insegnamenti che abbiamo avuto in questi mesi ha dimostrato serenamente di avere l'intenzione di distruggere Israele distruggere la popolazione perché sono andati di casa in casa di soggiogare e di sottomettere Israele alla paura perché lo spirito di Amalek si muove nella paura e quindi possiamo capire quest'anno in modo particolare con che sentimento con quale in quale modo approcceranno gli ebrei soprattutto gli ebrei di Israele ma direi gli ebrei in diaspora in generale perché abbiamo visto che oramai il problema anche dell'antisemitismo è veramente globale è antisionismo antisemitismo sono cadute tutte le maschere al riguardo parlando di maschere sul Purim capiamo qual è lo spirito che porta questi ebrei al divino di Esther e poi a celebrare la festa del Purim quindi la mia preghiera e desidero che desidererei che fosse anche la vostra è che il Signore trasformi proprio come abbiamo letto prima questo lutto in gioia e che la speranza di questo popolo si fondi completamente nel loro dio che non li ha dimenticati né ora né all'epoca di Esther come abbiamo visto ecco le date del digiuno di Esther il digiuno di Esther si svolge il 21 il 22 il 23 di marzo e Purim il 24 di marzo io ho concluso vi ringrazio per la vostra attenzione ovviamente chi vorrà lo può chiedere ad Antonietta o Alessandro potrò mandarvi la presentazione sì sì le slide chiedo soltanto come al solito la cortesia di non mettere su internet insomma di farne un uso interno certo però ecco la mando volentieri aspettate che chiudo qua interrompo la condivisione grazie Sara davvero è stato molto molto interessante la prima volta almeno per quanto mi riguarda che mi è stata spiegata così bene il libro di Esther grazie a tutti